musica 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 Antonio cosa c'è Enrico? ti andrebbe di fare la parottita a carote la scoperta è in quattro vai vai vieni qua si ciao ne manca uno ne manca uno c'è nessuno in giro aspetta un attimo so io chi chiamano marco 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 si basta vieni qua ho bisogno di te immediatamente muoviti è una cosa molto importante si arrivo 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 padre arrivo subito ciao ciao bravo marco dai vieni a sedere ma no padre io non c'ho male di giocare con le carte muoviti ho detto per piacere di si fa bene oh marco tocca a te giocare bene mi raccomando scopri tu e bello si marco fai niente importante adesso è vincere ce la possiamo ancora fare capito? va bene padre va bene padre mi raccomando eh si 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 wow marco possiamo ancora vincere gioca bene sta mano per piacere va bene padre va bene padre si ma non è possibile giocare così veramente brutto ragazzo mio ma se senti tu parte cosa giochi o cinque o il fante e non le so giocare a carte ma dirlo prima sei veramente incapace questa partita la mano è persa sei incapace mamma mia marco ti ho anche chiamato marco gioca vai facciamo fare anche i punti belli vai marco non mi hai perso 17 a 0 dai veramente dai non so marco marco non preoccuparti è colpa di padre rio ma poi fai se è colpa mia bella meritai mi hai fatto presente di quelle cose dai facciamo scambio di coppia e vedrai che vinco io va bene va bene va bene tanto vedrai che non ce la faccio oh marco raccogli le capi si chiaramente marco dopo quando io mi gratto la testa tu butti il 2 quando invece mi tocco la spalla si si butti il 3 si 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 parte bene è forte poi prendi anche questo bravo prendi tutto bravo 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 oh wow buonga guonga 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 buonga Con questa speriamo che vada bene. Sette le... Bravo, bravo. Ma cos'è lì? Ma cos'è lì? Ma tocca a Marco. Se il primo sbagliato vorrà dire che adesso sarà quella giusta la carta, quindi la gioco. Due doni. Ma no, no. Due doni. Questa vita è facciante, ragazzi. Oh, scopacò. Ma no, Marco, dai. Mi hai fatto perdere. Vai dai bambini. Muoviti, Marco, vai. Non prendetela, non prendetela. Un camarino. Non prendetela, un paludito, un prigine. E va bene, patrone. Vai. Vai. No. 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 No.